Agenti italiani sono arrivati in queste ore in Brasile pronti a prelevare il terrorista Cesare Battisti che però è ancora latitante dopo il via libera all'estradizione concessa ieri sera dal presidente Michel Temer. Ho ricevuto un messaggio da un corrispondente amico in Brasile che mi riferiva che c'è stato questo mandato di arresto per Battisti. Battisti che però adesso... Subito dopo ho ricevuto un altro messaggio dicendo che con il contenuto che il Battisti è introvabile. Così Adriano Sabadin, il figlio di Lino, quest'ultimo barbaramente ucciso dal terrorista rosso nel febbraio del 79 nel suo negozio. In questa macelleria a Caltana di Santa Mere di Sala la famiglia con il figlio Adriano torna a chiedere giustizia. Lo fa in un modo decisamente originale e creativo sebbene ancora molto tragico. Cesare Battisti, condannato a due ergassoli in Italia, accusato di aver preso parte a quattro omicidi dopo essere scappato in Brasile come rifugiato politico, ora è di nuovo in fuga anche dal paese Carioca ridiventando ancora latitante e creando nuovo sconforto anche nella famiglia Sabadin che non scrive solo a Babbo Natale. Sì, ho inviato anche una richiesta al ministro Salvini dicendo di aiutarmi alle estradizioni di Battisti. Quando era scritta questa lettera ha ottenuto qualche risposta? Per il momento no, però so che stanno lavorando con molto entusiasmo e con vivacità questa cosa. Per la famiglia Sabadin sarà un altro Natale carico di dolore e tristezza, sapendo che l'assassino del padre dopo 40 anni è ancora impunito e libero. Il dolore ogni volta che si parla è un continuo accendersi.